Una fotografia che è stata fatta nel 1945, subito dopo averla, qui c'è un piazza Aesia marignana. Si vede anche i bambini di Aesia che sono stati messi fuori da che le potessero usare le donne, che le potessero usare le mamme. A vista delle mamme è una maniera di parlare, mica troppo all'uso corso, a vista delle mamme, ma mica a vista delle mamme. Tutti i bambini davanti hanno bisogno di più pezzi, non nemmeno più di più giovani. Il filare, il vestito del nero, questa maniera di tenisi dietro, le braccia e le mani sempre incrogettate. Così non è andato all'altro, o più non è andato all'arretto. Mi faccio pensare, il sudetto si vede come un corpo andato volato. E qui, questa criatura, vestita in bianco, davanti a tutte queste donne, vestita in nero. E beh, si vede come un bianco andato nero. Grazie. Grazie. Grazie.